A Padova nelle scorse settimane sono stati selezionati 30 giovani tra i 18 e i 28 anni che per 12 mesi saranno impegnati 25 ore a settimana a servizio della comunità. In cambio un compenso netto di 440,30 euro al mese, ferie permessi retribuiti ma soprattutto la possibilità di fare un'esperienza di cittadinanza attiva e sperimentarsi in un contesto lavorativo tanto articolato quanto stimolante. Si tratta di ragazzi selezionati nell'ambito di sei progetti di servizio civile promossi dal comune di Padova, progetti negli ambiti del sociale, delle politiche educative, delle politiche giovanili, della cultura e dell'integrazione. I membri della nuova squadra hanno storie ed esperienze diversissime, c'è chi è laureato, chi sta studiando, chi già ha avuto esperienze di lavoro e chi si cimenta per la prima volta. Qualcuno parla molte lingue e ha già viaggiato tanto, per altri sarà l'occasione di imparare e progettare il proprio futuro. Tutti sono accumunati dalla voglia di mettersi in gioco con l'ambizione di trarre il massimo in termini umani e professionali dai prossimi mesi.